www.canale58.com la tv sul web notizie, video, rubriche diretta streaming scarica l'app di Canale58 per tablet, smartphone, iphone benvenuti alla trasmissione politica e sviluppo ospite di eccezione di questa puntata è il sottosegretario delle infrastrutture e trasporti Umberto del Basso De Caro buonasera a lei buonasera sento onorevole, secondo la stampa nazionale l'ala del PD che fa capo all'ex premier Renzi sembra orientata per il voto a marzo ciò significa che a dicembre si devono chiudere i conti delle candidature a vari livelli quanto pesa il fatto che il partito democratico sia commissariato in provincia di Avellino e perché non ha preso parte alla recente riunione del Nazareno? è una domanda plurima ne contiene molte altre in realtà la data delle elezioni sarà fissata in primavera potrebbe essere l'inizio della primavera o più in là ma insomma non mi pare che sia questo molto rilevante stabilire che si voti a metà marzo o a fine marzo o a inizio di aprile non credo che sia molto significativo ciò che è significativo è avere invece una coalizione con la quale presentarsi alle elezioni posto che nella quota proporzionale ciascuno naturalmente correrà con il proprio simbolo e con il proprio partito ma nella quota maggioritaria poiché la vittoria sarà assegnata a chi riscuoterà un voto in più è ovvio che vi è la necessità di stare insieme stare insieme significa non solo condividere una candidatura nell'uninominale ma condividere innanzitutto un programma di governo un progetto per l'Italia il tempo che manca alla fine della legislatura deve servire a questo al Parlamento per approvare la legge di bilancio ma ai partiti per organizzare un programma politico di coalizione e quindi parte di quella domanda pluri ma lei perché non è andata al Nazareno di recente io ho ricevuto il cortese invito del commissario Onorevole Ermini e come mia abitudine mi considero una persona insomma educata gli ho telefonato prima e poi gli ho scritto la lettera è stata anche pubblicata con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data fissata della riunione non sono andato perché non mi era chiaro quali fossero i criteri di composizione del tavolo quanto pesa questo commissariamento dell'EPD in provincia di Avellino? che investe ovviamente i nostri collegi? Guardi la decisione sulle candidature politiche nazionali è una decisione nazionale quindi non annetterei un grande significato al fatto che ci sia un commissario piuttosto che organi legittimamente rappresentativi del partito perché appunto siamo in tema di elezioni politiche generali e quindi qualsiasi proposta di candidatura proveniente dal territorio quindi legittimamente espressa deve ricevere il conforto di una ratifica nazionale pesa la fase commissariale perché indiscutibilmente il peggiore degli organismi dirigenti è di gran lunga preferibile al migliore dei commissari è del tutto evidente che gli organi dirigenti il segretario provinciale la segreteria la direzione provinciale l'assemblea provinciale sono organi rappresentativi di tutto il territorio nelle varie articolazioni nella rappresentazione anche molto plurale che ha il partito democratico in provincia di Avellino Ermini è una persona per bene un galantuomo naturalmente è un deputato della provincia di Firenze io immagino che da gennaio in poi difficilmente potrà venire ad Avellino perché sarà impegnato giustamente sul suo territorio ci sono i presupposti per creare un'alleanza programmatica come diceva lei prima con la parte sinistra del partito democratico tutto ciò che sta a sinistra io penso proprio di sì credo di sì e penso che sia anche necessario farlo io credo che il partito democratico come parte fondamentale della coalizione di centro-sinistra debba debba avere alla propria destra un aggregato di forze moderate centriste e mi pare che si stia realizzando e dall'altra parte un aggregato di forze che sono più a sinistra tra virgolette ammesso che abbia ancora un valore dirimente il termine sinistra la differenza evidentemente è sui contenuti mi pare che si stia cercando di lavorare in quella direzione con campo progressista con i radicali di Emma Bonino con i socialisti di Riccardo Nonnegini con i verdi con Italia dei Valori con queste forze mi pare che si stia cercando una intesa e secondo me è assolutamente salutare realizzarla Lei ha parlato anche di area centrista quindi in tema di accordi demita dal Palapartenope di Napoli ieri ha detto no al centrodestra fatto ovviamente confermato anche in questa trasmissione però ha sottolineato anche che il PD è molto litigioso create un'alleanza ci sono i presupposti per creare un'azione anche a livello nazionale come quella regionale? Guardi io ho detto prima auspico che al centro ci sia un alleato affidabile che possa come dire colloquiare e realizzare le giuste intese con il Partito Democratico in questi anni alle nostre spalle l'On. Angelino Alfano è stato il leader di un nuovo centrodestra lo si chiama Alternativa Popolare e mi pare che stia cercando di realizzare questo centro non da solo concorre Pierferdinando Casini e Galletti concorre probabilmente il ministro dello sviluppo economico Calenda che nelle scorse elezioni fu candidato per scelta civica e non so se vi concorrerà anche l'On. De Mita che fino a poche ore fa era con l'Udc il cui segretario nazionale Cesa mi pare abbia imboccato decisamente la strada di un'alleanza con il centrodestra quindi io prendo atto degli esiti della manifestazione l'On. De Mita ha tenuto a Napoli e naturalmente come ho detto prima vale per De Mita come vale per qualsiasi altro bisogna utilizzare le prossime settimane non i prossimi mesi per stipulare una giusta alleanza un'alleanza innanzitutto programmatica e quindi di contenuti e poi un'alleanza che nei maggioritari riesca a raccogliere il maggiore consenso possibile Tralasciando i dati della Sicilia i recenti sondaggi parlo di Tecne e SVG bimedia quindi sondaggi autorevoli dicono di un test a test tra PD e Movimento 5 Stelle sono veramente pentastellati quelle da battere? No il disegno che viene fuori dai sondaggi ormai è noto a tutti quindi non dico nulla di nuovo il disegno che viene fuori è quella di un'Italia tripolare un'Italia tripolare che ovviamente difficilmente sarà governabile da sola questa esperienza l'abbiamo già vissuta in Europa recentemente la Merkel è stata per molti anni al governo con i suoi tradizionali antagonisti politici i socialisti dell'Espede lo stesso è accaduto in Spagna dove il governo di Rajoy si legge sulla benevola astensione del tradizionale antagonista partito socialista spagnolo quindi non sarebbe la prima volta questo mi pare essere la fotografia noi naturalmente abbiamo da ricercare due primati che politicamente hanno grande valore quello di essere il primo partito d'Italia e di essere la prima coalizione è tornata ad Ariano dopo qualche mese per parlare di infrastrutture il ramo ovviamente che lei segue a livello nazionale sa molto bene che questa città sconta un gap rispetto ad altre il progetto della variante esterna per intenderci la manna camporeale è rimasto nel cassetto sa il motivo? No Ariano sconta un gap di infrastrutture ma ci sono anche ritardi enormi c'è una strada che avrebbe dovuto essere appaltata dall'amministrazione provinciale di Avellino è un'arteria che mi pare che valga una trentina di milioni di euro dove vi è stato anche un lungo contenzioso tra la prima impresa risultata vincitrice e la seconda nei cui confronti il Tar prima il Consiglio di Stato poi hanno pronunciato una sentenza favorevole e non si capisce perché l'amministrazione provinciale di Avellino non provvede ancora a dare esecuzione alla sentenza è un'opera molto significativa poi vi era un'altra opera una variante credo sia quella di Cardito che in una prima stesura del patto per la Campania risultava essere stata inserita con una cifra molto rilevante e nella stesura definitiva francamente non l'ho più rinvenuta quindi si sono perse le tracce io sì ho perduto le tracce francamente di quella variante era un'opera da 121 milioni di euro penso che Ariano meriti di essere meglio collegata è una città importante non soltanto perché è il centro più importante della provincia di Avellino per popolazione ma anche per storia ma perché non a caso quando noi la indichiamo non diciamo Ariano diciamo l'arianese perché sappiamo che Ariano è punto di riferimento di un'area molto più ampia molto più popolosa di numerosi comuni che su Ariano gravitano sul piano economico sociale culturale per uffici per storie per tradizioni per costumi per legame familiare e quindi Ariano secondo me merita un'attenzione ulteriore situazione diversa invece per Aglioni Contursi Grotta Minardi a quanto pare manca poco l'ultimo strauccio sì 70 milioni è il finanziamento che ancora manca per il completamento dell'opera l'opera vale 430 milioni 360 già sono stati assolutamente accantonati e utilmente spesi perché fino ad oggi sono stati spesi soltanto 130 milioni che non è poco naturalmente ma che rispetto alla somma di 430 è comunque molto poco il mese scorso c'è stata una buona manifestazione a Sant'Angelo dei Lombardi cui è intervenuto anche il Presidente dell'Aggiunta regionale ed anche il sottoscritto proprio per stipulare il nuovo contratto per la esecuzione dei lavori sulla tratta Sant'Angelo dei Lombardi Villa Main anche lì è una tratta da 120 milioni insomma non è poca cosa sono cifre rilevanti e sempre il mese scorso mi piace ricordare che il Ministro delle Infrastrutture il mio Ministro Graziano Del Rio è stato a Caposele per la rottura dell'ultimo diaframma la galleria Pavoncelli bis è un'opera statale finanziata per 160 milioni di Euro ormai terminata e rappresenterà la più grande galleria di adduzione idrica d'Italia e successivamente nel pomeriggio ho avuto l'onore di accompagnare il Ministro Del Rio nel Consiglio Comunale di Avellino perché il giorno precedente era il 23 di ottobre il giorno precedente era stata pubblicata in gazzetta ufficiale il finanziamento per l'housing sociale per la città di Avellino precedentemente il sindaco di Avellino era stato convocato a Palazzo Chigi e con Gentiloni aveva sottoscritto il contratto per le periferie urbane degradate altri 18 milioni insomma mi pare che ci sia l'attenzione massima del governo nei confronti di questo territorio e verso il Sannio ci sono progetti che stanno andando avanti? Assolutamente sì io sto aspettando la fine della conferenza dei servizi sulla Napoli Bari del terzo e quarto lotto il quarto lotto riguarda proprio questo territorio parte da Apice Apice Grotta Minarda il terzo lotto è Frasso Telesino Telese abbiamo convocato le conferenze dei servizi il 20 e il 21 di settembre e naturalmente ci auguriamo per questa fine mese di chiudere per poter pubblicare i relativi avvisi di gara lo stesso discorso vale per il completamento della forturina che già oggi unisce Benevento a San Marco dei Cavoti in poco più di 10 minuti e che dovrà proseguire verso il cuore del fortore verso San Bartolome in Galdo è un finanziamento ulteriore di 175 milioni di euro stesso discorso il più importante di tutti l'opera più attesa è la Benevento Terese Canello è un'opera che già esiste si tratta soltanto di raddoppiarla che non è poca cosa ed è l'unica asta di collegamento Adriatico-Tirreno esistente in Italia Meridionale collega la Napoli-Bari con il casello di Benevento Castel del Lago con l'autostrada del Sole con l'A1 casello di Cajanello quindi è una trasversale molto importante che oggi in una condizione assolutamente deteriore perché la strada è largamente insufficiente e soffre di una cattiva manutenzione evidentemente già oggi ha un traffico veicolare accertato in 12 milioni di autoveicoli all'anno quindi un milione al mese ma di questo traffico veicolare buona parte è un traffico veicolare pesante cioè si tratta di merci che provengono dall'Adriatico dalla Puglia e sono arrivati in Puglia nei porti di Bari e Brindisi provenienti dai Balcani provenienti dall'Albania e dalla Grecia parliamo appunto di alta capacità lei già ha accennato qualcosa ora si stanno facendo i raddoppi in alcuni tratti come può convincere uno scettico che quest'opera si farà si sta facendo lo convinco solo così primo e secondo lotto è stato aggiudicato dal mese di febbraio se le imprese aggiudicatarie dei lavori non avessero legittimamente per carità ma insomma litigato davanti agli organi giurisdizionali e già sarebbe stata messa la prima pietra dell'opera per fortuna il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stato rapido i ricorsi reciproci sono stati rigettati confermando le scelte di rete ferroviare italiane il primo lotto Napoli-Cancello sarà realizzato dal raggruppamento di imprese Astal di Salini in pregiro il secondo lotto sarà realizzato dal raggruppamento di imprese Ghelle Pizzarotti Itinera è un'opera importantissima non c'è da essere scettici giustamente sono aggiudicati i lavori l'opera è finanziata già per i due terzi costa 6 miliardi e 320 milioni di euro ve ne sono 4 miliardi e 4 già a disposizione quindi mi pare che sia una realtà senta invece quando possiamo porre la prima pietra in Valle Ufida per la stazione Erpinia io mi auguro di far pubblicare gli avvisi di gara nel mese di gennaio naturalmente ne daremo notizie ma li leggerete sulla stampa sono gli avvisi di gara gli avvisi di gara indicano la fine del procedimento autorizzativo significa che il progetto è esecutivo significa che tutto è pronto per aggiudicare i lavori alla impresa che risulterà migliore impresa per offerta economica e per valutazione tecnica quindi la stazione Erpinia si farà sicuramente dopo una lunga battaglia parlamentare che ha visto veramente l'unione di tutte le forze politiche è scomparsa un po' la discussione sulla piattaforma logistica in Valle Ufida non mi pare perché? perché è una realtà assoluta il tema delle piattaforme logistiche è un tema che ci appassiona da tempo io come ho detto in ogni occasione le piattaforme non le fa il governo con decreto le fa il mondo dell'impresa le fa il mercato se un'area è bocata per essere piattaforma logistica premesso che deve essere un'area perfettamente infrastrutturata con la intermodalità è evidente che quell'area ha una sua attitudine astratta e concreta per poter essere piattaforma logistica ora il discorso vale per Benevento la città di Benevento vale certamente forse anche di più per Flumeri in sostanza Grotta Minarda si trova ad essere più di ogni altro comune devo dire Grotta Minarda ad essere crocevia di importantissimi assi viari e ferroviari intanto perché la Napoli Bari passa per Grotta perché a Grotta noi abbiamo realizzato una sistema tangenziale che supera il centro abitato e quindi per fortuna inibisce il traffico veicolare pesante per il centro della città ed è un'asta che costata 52 milioni insomma l'abbiamo inaugurata è stata realizzata in meno di 30 mesi e sono 7 chilometri operante poi con le risorse che siamo riusciti a risparmiare per il mancato shunt di Maddaloni sono 60 milioni dei 100 risparmiati rete ferroviaria italiana ha proposto un braccio ferroviario di diramazione proprio dalla stazione Irpinia all'area industriale di Flumeri alta capacità è riferita alle merci l'alta velocità è riferita spieghiamolo ai telespettatori perché sembra opportuno fare un chiarimento tra alta velocità e alta capacità assolutamente è semplice gli acronimi AV AC che noi leggiamo significano appunto questo che l'alta velocità è riferita al movimento dei passeggeri l'alta capacità è riferita al movimento delle merci ora vi è una tendenza che il governo ha manifestato negli ultimi anni in maniera molto evidente una tendenza a modificare il rapporto del trasporto merci da gomma a ferro il trasporto gomma in Italia è stato quello prevalente il governo in maniera molto avveduta che io assolutamente condivido sta cercando di abbassare la quota parte di merci trasportate su gomma per caricare più e valorizzare possiamo dire altre forme di trasporto sicuramente il ferro ma anche il trasporto marittimo e perfino quello fluviale stiamo cercando di fare questo la legge di riforma dei porti in realtà serve proprio a valorizzare il trasporto marittimo che è quello che guarda i mercati dell'est e però per poter valorizzare il trasporto marittimo e le merci che viaggiano via mare bisogna creare le piattaforme retroportuali il sistema portuale il sistema interportuale le ZES le zone economicamente speciali di cui giustamente tutti parlano insomma noi su questo dobbiamo fare un punto di chiarezza le ZES riguardano il porto di Napoli di Salerno e quindi il sistema retroportuale ma non vi è dubbio che possano riguardare anche le nostre zone perché valorizzano le possibilità di fare interporti e di fare piastre logistiche in regione Campania la seconda linea quella che è immediatamente alle spalle dei porti di Napoli e Salerno si muove lungo l'asse Nola Marcianise Capua e noi dobbiamo andare un poco più dietro proprio dove la provincia di Avellino e quella di Benevento per poter dare anche noi come territorio questa prospettiva quindi sotto questo profilo le ZES indirettamente ci riguardano molto se nei prossimi dieci anni l'Erpini e il Sannio cambierà un po' il volto urbanisticamente i comuni sono pronti ad accogliere queste grandi infrastrutture ma il sentore di questo si stanno muovendo devo dire che avendo partecipato alle conferenze di servizi che vi è una grande consapevolezza che queste opere rappresentino le precondizioni dello sviluppo i sindaci del territorio con i quali mi sono incontrato mi paiono molto favorevoli mi paiono convinti e consapevoli del fatto che queste opere significative insomma che costano centinaia di milioni possano connettere questi nostri territori al resto d'Italia noi abbiamo la disperata necessità disperata necessità di rompere l'isolamento e quindi di connettere il Sannio l'Irpinia Benevento Areano l'Alta Irpinia a un sistema che sia ferroviario che sia viario al resto d'Italia e per farlo bisogna rendere i territori anche più attrattivi ma quale imprenditore possa essere attratto da un territorio chiuso o non collegato è evidente che un imprenditore cerca di mettere un proprio impianto di produzione in una zona che sia servita appunto da una buona viabilità stradale e da un'altrettanto buona viabilità ferroviaria il discorso è proprio questo Senta il sottosegretario Umberto del Basso De Caro quanto ci ha messo del suo per realizzare questo per smuovere questi grandi progetti Io ho certamente avuto il merito di seguirle in maniera diligente puntuale se volete da maestrino insomma l'ho fatto in modo puntuale l'ho seguito per tutti e quattro gli anni ho seguito i progetti ho seguito le fasi procedimentali che sono molto complesse ho seguito il Cipe del quale sono delegato in rappresentanza del mio ministero diciamo sono stato ecco quanto meno diligente almeno questo penso di poterlo dire poi le opere vengono da lontano sono frutto di intuizioni diverse ed antiche plurali per carità hanno visto l'impegno di tantissimi parlamentari e non parlamentari è un impegno corale un'opera che tra il pensare ed il realizzare impiega venti anni perché di questo si tratta non può essere attribuita ad uno solo magari fosse possibile una cosa del genere ma non è possibile non è vero perché non è così vale per la Talese Cajanello vale per la Napoli Bari vale per la Fortorina sono opere che nascono molti anni fa e hanno visto l'impegno generoso leale disinteressato di tantissime persone del mondo politico del mondo dell'impresa dei territori dei sindaci che si sono succeduti e in questo grandissimo plurale corale impegno io ho apportato un piccolissimo segmento un piccolo contributo sarà l'Umber 1000 ma penso che l'Umber 1000 mi possa essere ascritto senta perché si dovrebbe credere nel partito democratico il partito democratico ha molti difetti molto spesso siamo abituati anche a farci del male da soli le nostre divisioni sembrano essere più dovute a rivalità personale che non a dispute politiche vere cioè sui contenuti tuttavia nonostante la somma dei difetti noi siamo l'unico partito serio organizzato sul territorio nazionale siamo l'unico partito che ha circoli sedi che organizza eventi manifestazioni importanti che discute che si confronta magari anche in maniera fin troppo litigiosa ma soprattutto in questa Italia protesa verso una deriva populista siamo l'unico argine al populismo l'unico vero argine noi siamo un partito che intende guardare al futuro dell'Italia e dei suoi abitanti non un partito che sputa veleno su tutto e non costruisce niente oggi criticare è facilissimo costruire è molto più complicato programmare progettare proporre è complicato ed è un esercizio anche ingeneroso quello dei populisti e dei demagoghi quelli di non riconoscere mai alcun merito il governo Renzi nei tre anni ha fatto cose straordinarie tantissimi sono i provvedimenti che secondo me legano il governo Renzi al futuro dell'Italia lo stesso governo Gentiloni che è nella prosecuzione naturale sta facendo molto bene i dati economici ci confortano sapere che le nostre previsioni di crescita una volta tanto vengono smentite perché noi immaginiamo nel DEF dello scorso anno 1,09 invece ci ritroviamo all'1,5 e probabilmente quando si voterà ci troveremo al 2% di crescita insomma sono dati molto importanti ora avere una crescita dell'1,5% non significa avere risolto i problemi d'Italia per carità significa però avere risolto una tendenza negativa che in questi 8 anni alle nostre spalle si era manifestata tutta con numeri con segno negativo e per la prima volta cominciamo a mettere qualche più davanti alla cifra a me pare un'inversione di tendenza poi si potrà argomentare che i posti di lavoro in realtà ed in massima parte sono rinvenienti dalla trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato e che naturalmente questa scelta degli imprenditori è stata realizzata grazie ad una legislazione fiscale assolutamente premiale questo è vero ma come si fa a chiedere agli imprenditori di investire nei territori se non si promuove anche una fiscalità di vantaggio se non si immette anche il credito d'imposta soprattutto nelle regioni meridionali se non si dice alle imprese badate coloro che assumeranno i giovani nel mezzogiorno avranno non solo la deducibilità fiscale piena ma anche la fiscalizzazione degli oneri sociali per cui per i primi tre anni il lavoratore per quanto riguarda i contributi assistenziali e previdenziali non saranno posti a carico dell'azienda ma a carico dello Stato ma questi mi paiono provvedimenti necessari per uscire dal tunnel della crisi che abbiamo percorso tutto per otto anni e per rilanciare gli investimenti produttivi è buonsenso questo va bene io le auguro buon lavoro la ringrazio per essere intervenuto alla trasmissione di sviluppo grazie e a presto in bocca al lupo buonasera a tutti i spettatori grazie www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale58 per tablet smartphone iphone e a presto Autore dei sovrapposti